Sant'Alfonso Maria dell'Iguori, Apparecchio alla morte, ovvero Considerazioni sulle Verità Eterne, Edizioni Gribaudi, lettura Cristina Capella. Seconda riflessione, pagina 30. Tutto finisce con la morte, viene la fine, la fine viene, Ezechiele 7,6. La ripetizione delle due parole, in ordine inverso, sottolinea con particolare efficacia che l'arrivo della fine è imminente. Punto primo, la morte ci spoglia di tutto. Gli uomini di mondo ritengono fortunate solamente le persone che sanno godere dei beni, dei piaceri, delle ricchezze, dei lussi di questo mondo. Ma la morte metterà fine tutte le fortune della vita terrena. Che è mai la nostra vita? Siete come un vapore, che appare per un istante. Giacomo 4,14 I vapori che vengono emessi dalla terra, fanno un bello spettacolo, quando sono alzati per aria e investiti dalla luce del sole. Ma questo spettacolo quanto dura? Con un po' di vento scompare tutto. Ecco quel gran duomo, oggi corteggiato, temuto e quasi adorato. Domani, quando sarà morto, verrà disprezzato, ingiuriato e calpestato. Con la morte dobbiamo lasciare tutto. Il fratello del grande servo di Dio, Tommaso di Campis, si vantava di essersi costruita una magnifica casa. Un amico, però, gli fece notare che vi era un grave difetto. Quale? Egli domandò. Il difetto, quegli rispose, è che vi avete fatto collocare la porta. Come? Riprese. È un difetto la porta? Sì, rispose ancora l'amico, perché un giorno attraverso questa porta sarete trasportato fuori morto e dovrete lasciare così la casa e tutto il resto. La morte, in conclusione, spoglia l'uomo di tutti i beni di questo mondo. Che spettacolo! Vedere il principe mandato via dal suo palazzo perché non vi faccia più rientro e vedere altri prendere possesso dei mobili, del denaro e di tutti gli altri suoi beni. Nella tomba, i servi lo lasciano avvolto in una veste che basta appena coprirgli il corpo. Non c'è più chi lo stima né chi lo adula e non si tiene più conto degli ordini che ha lasciato. Saladino, che conquistò molti regni in Asia, prima di morire, diede disposizione che nel momento in cui il feretro sarebbe stato trasportato alla sepoltura, una persona procedesse davanti alla bara con la sua camicia appesa ad un'asta, gridando «Questo è tutto quanto Saladino porta con sé nella tomba, dopo che il cadavere del principe è stato collocato nella fossa e iniziano a staccarsi le carni. Ecco il suo scheletro, non si distingue più dagli altri. Osserva attentamente i sepolcri, dice San Basilio, e cerca di distinguere, se ci riesci, chi è stato servo e chi padrone. Basilio il Grande, omilie». Un giorno Diogene si fece notare da Alessandro Ormanio, tutto affannato, mentre cercava qualcosa fra le ossa dei morti. «Che cerchi?» chiese curioso Alessandro. «Sto cercando il teschio di re Filippo, tuo padre». Egli rispose «Ma non riesco a distinguerlo. Se tu puoi trovarlo, fammelo vedere. Su questa terra gli uomini nascono diversi, ma dopo la morte tutti ritornano uguali. Noi nasciamo diversi, ma moriamo uguali, dice Seneca». Epistule, numero 91-16. La morte esercita un'azione livellatrice sugli uomini, rendendoli uguali. Ed Orazio scrisse che la morte rende uguali gli scettri alle zappe. La tradizione attribuisce il concetto ad Orazio, anche se il poeta non lo esprime con queste parole. In breve, quando sopraggiunge la morte, viene la fine. Ezechiele 7-6. Tutto finisce e tutto si lascia. E di tutte le cose di questo mondo nulla si porta nella fossa. Sentimenti e preghiere. «O mio Signore, poiché mi date la capacità di riconoscere che tutto quanto viene stimato dal mondo è fumo e follia, concedetemi la forza di staccarmene prima che me ne distacchi la morte, infelice che sono stato. Quante volte, per godere i miseri piaceri e i beni di questa terra, ho offeso e perduto voi, bene infinito. Gesù mio, Medico Celeste, volgete gli occhi verso la povera anima mia. Guardate le numerose piaghe, che io stesso mi sono procurato con i miei peccati, ed abbiate pietà di me. Se vuoi, tu puoi sanarmi. Matteo 8-2. Io so che potete e volete sanarmi, ma per sanarmi volete che mi penta delle offese che vi ho arrecate. Sì, me ne pento con tutto il cuore. Risanatemi dunque, dal momento che potete sanarmi. Risanami contro di te ho peccato. Salmo 45 Io mi sono scordato di voi, ma voi non vi siete dimenticato di me. E ora mi fate comprendere che volete anche dimenticarvi delle offese che vi ho arrecate, a condizione che io le detesti. Ma se un malvagio si allontana da tutti i peccati, nessuna delle colpe commesse sarà ricordata. Ezechiele 18-21-22 Ecco, io le detesto e le odio più di ogni altro male. Dimenticatevi dunque, o mio Redentore, di tutte quante le amarezze che vi ho dato. Per il futuro voglio perdere tutto, anche la vita, piuttosto che la grazia vostra. E che mi servono tutti i beni della terra, senza la vostra grazia. Dei aiutatemi. Voi sapete quanto sono debole. Il diavolo non si stancherà di tentarmi. Sta già preparando mille assalti per rendermi di nuovo suo schiavo. No, Gesù mio, non abbandonatemi. Da oggi in poi voglio essere schiavo del vostro amore. Voi siete l'unico mio Signore. Voi mi avete creato. Voi mi avete redento. Voi siete colui che mi ha amato soprattutto. Voi siete l'unico che merita di essere amato. Voi solo io voglio amare. Punto secondo Potenza e ricchezza sul letto di morte Filippo II era di Spagna, trovandosi in punto di morte, chiamò vicino a sé il figlio. E dopo essersi tolta la veste regale, che lo copriva, gli mostrò il petto rosso dai vermi. Poi gli disse Principe, vedi come noi moriamo e come finiscono tutte le grandezze di questo mondo. Ha ragione. Teodoreto affermò La morte non ha avuto timore né delle ricchezze, né del seguito, né del potere. E così sia per i sudditi, sia per i principi. Giunge necessariamente il marciume del sepolcro e le membra si sfaldano nella putrefazione. Teodoreto de providenzia La morte non risparmia nessuno e non si arresta di fronte a chi possieda grandi ricchezze, un seguito numeroso o segni del potere. Il termine putredo indica il marciume del sepolcro, mentre Sanies è il liquido purulento che cola dalle membra in putrefazione. Così ogni persona che muore, anche se un principe, non porta nulla con sé nella tomba e tutta la sua gloria resta lì, sul letto dove è esalato l'ultimo respiro. Quando muore non porta nulla con sé, né scende con lui la sua gloria. Salmo 48, 18 Narra Sant'Antonino L'episodio è tratto da Antonino, Somma Teologie, parte IV Che dopo la morte di Alessandro Magno, un certo filosofo se ne uscì con questa esclamazione Ecco, colui che fino a ieri calpestava la terra, oggi dalla terra viene ricoperto, ieri tutta la terra non gli bastava, ora gliene bastano sette palmi. Ieri conduceva sulla terra gli eserciti, ora è condotto sotto terra da pochi becchini. Ma è meglio ascoltare la parola di Dio. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Siracide 19 Uomo, non vedi che sei polvere e cenere? A che pro ti insuperbisci? A che pro impieghi i tuoi pensieri e gli anni tuoi per renderti grande in questo mondo? Verrà la morte e allora finiranno tutte le tue grandezze e tutti i tuoi progetti. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Salmo 145, 4 La morte di San Paolo Eremita, che visse i 60 anni chiuso in una grotta. Oh, quanto fu più felice della morte di Nerone, vissuto da imperatore di Roma. Quanto fu più fortunata la morte di San Felice, laico Capuccino, che la morte di Enrico VIII, vissuto tra magnificenze di re ma nemico di Dio. Bisogna però riflettere che per ottenere una tale morte, i Santi hanno lasciato tutto, la patria, le delizie, le speranze che il mondo loro offriva e hanno abbracciato una vita povera e poco apprezzata. Hanno vissuto nel nascondimento su questa terra, per non essere gettati nell'inferno dopo la morte. Gli uomini di mondo però, che vivono tra i peccati, i piaceri terreni, le occasioni pericolose, come possono mai sperare una morte felice? Dio amonisce i peccatori, i quali lo cercheranno solo in punto di morte, che non lo troveranno. Voi mi cercherete e non mi troverete. Giovanni 7,34 E il Signore afferma che allora sarà tempo, non di misericordia, ma di vendetta. Io renderò a suo tempo quello che ha loro dovuto. Deuteronomio 32,35 Traduzione della Vulgate. Nell'edizione ufficiale dei testi originali si legge, vicino al giorno della loro rovina. La ragione ci persuade della medesima cosa. Allora invece, un uomo di mondo si troverà in punto di morte, con la mente indebolita e il cuore ottenebrato e indurito dalle cattive abitudini acquisite. Le tentazioni saranno più forti. Chi ha scelto durante la vita di cedere quasi sempre e di lasciarsi vincere, come resisterà al momento della morte? Sarebbe necessaria allora una grazia divina più potente, che gli cambiasse il cuore. Ma il Dio è forse obbligato a concederci questa grazia? Costui se l'è forse meritata, con una vita di trasgressioni che ha condotto. Eppure in quel momento sono in gioco la sua fortuna o la sua rovina eterna. Com'è possibile che pensando a questo, chi crede alle verità della fede, non lasci tutto per darsi tutto a Dio, il quale ci giudicherà secondo le nostre opere, sentimenti e preghiere? Ah, Signore, quante notti ho dormito, misero, in disgrazia vostra! O Dio, in quale stato miserabile si trovava allora l'anima mia! E se ero odiata da voi, e voleva il vostro odio. Io ero già condannato all'inferno, restava solo da eseguire la sentenza. Ma voi, mio Dio, non avete cessato di cercarmi e di invitarmi alla conversione, offrendo il perdono. Ma chi mi assicura che mi abbiate perdonato ancora? Dovrò vivere, Gesù mio, con questo timore, fino a quando mi giudicherete. Tuttavia, il dolore che provo per avervi offeso, il desiderio che ho di amarvi, ma più ancora la vostra santa passione, amato mio Redentore, mi fanno sperare di rimanere in grazia vostra. Mi pento di avervi offeso, sommo bene, e vi amo sopra ogni cosa. Sono deciso a perdere tutto, piuttosto che perdere la vostra grazia e il vostro amore. Voi volete che stia lieto quel cuore che vi cerca? Gioisca al cuore di quanti cercano il Signore. Primo libro delle Cronache, 16, 10. Signore, io detesto tutti gli oltraggi che vi ho fatto. Datemi coraggio e fiducia. Non mi rimproverate più la mia ingratitudine. Mentre io stesso la riconosco e la detesto. Voi avete detto che non volete la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Non godo della morte dell'empio, ma che desista dalla sua condotta e viva. Ezechiere 33, 11. Signo Dio, io lascio tutto e mi converto a voi. Vi cerco, vi voglio, vi amo sopra ogni cosa. Datemi il vostro amore e non vi domando più nulla. O Maria, voi siete la mia speranza. Ottenetemi la santa perseveranza. Punto terzo. È urgente donarsi a Dio. Davide chiamò la felicità della vita presente un sogno di chi si sveglia, come un sogno al risveglio. Salmo 72, 20. Commenta un autore. Un sogno perché i beni del mondo appaiono grandi all'intelletto intorpidito, ma non lo sono, perché subito svaniscono. La frase è tratta da un'opera che analizza i commenti salmi a Sant'Alfonso contemporanea e a lui certamente nota. I beni di questo mondo appaiono importanti, ma in realtà non sono nulla e durano poco, come poco dura il sogno e poi tutto svanisce. Questo pensiero, che con la morte finisce tutto, fece decidere a San Francesco Borgia di donarsi tutto a Dio. Al santo, infatti, toccò l'onore di accompagnare a Granada la salmo dell'imperatrice Isabella. Quando fu aperta la cassa, tutti fuggirono per il ribrezzo e la puzza, ma San Francesco, reso accorto dalla grazia divina, si fermò a contemplare in quel cadavere la vanità del mondo. E, osservandolo, esclamò, voi siete dunque la mia imperatrice? Voi siete con lei di fronte alla quale tanti nobili piegavano le ginocchia per rispetto? O donna Isabella, dove sono finite la vostra maestà e la vostra bellezza? Così dunque, tra sé concluse, finiscono le grandezze e le corone di questa terra. Poi disse, da oggi in avanti, perciò, voglio servire ad un padrone che non possa più morire prima di me. E così, da allora, si dedicò tutto all'amore di Gesù crocifisso. Inoltre, in quel momento, promise di prendere i voti religiosi se sua moglie fosse morta prima di lui. Ma cosa avvenne? Ed egli volle mantenere la promessa entrando nella compagnia di Gesù. Giustamente un uomo ormai disingannato scrisse sul teschio di un morto queste parole Tutto perde valore per chi riflette Da Gregorio Magno, Omilie in Evangelia Chi pensa alla morte non può amare la terra E perché mai ci sono tanti infelici che amano questo mondo? Perché non pensano alla morte? Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna? Miseri figli di Adamo, ci avverte lo Spirito Santo Perché non scacciate dal cuore tanti attaccamenti alle cose della terra Che vi fanno amare la vanità e la menzogna? Ciò che è avvenuto ai vostri antenati deve avvenire anche a voi Essi pure hanno vissuto in questo vostro palazzo Hanno dormito nel vostro stesso letto Ed ora non sono più Lo stesso deve succedere a voi Dunque, fratello mio, donati a Dio presto Prima che giunga la morte Tutto ciò che trovi da fare Fallo finché non sei in grado Quello che puoi compiere oggi Non aspettare a farlo domani Perché quest'oggi passa e non torna più E domani può sorprenderti la morte Che non ti permetterà di fare più nulla Presto distaccati da ciò che ti allontana O può allontanarti da Dio Separiamoci presto dell'attaccamento ai beni di questa terra Prima che la morte ce ne spogli con violenza Eati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore Apocalisse 14,13 Beati quelli che morendo si trovano già morti Agli affetti di questo mondo La morte non è temuta da costoro Ma è desiderata e anzi abbracciata con litizia Essa infatti invece di separarli dai beni che amano Li unisce al sommo bene Che essi solamente amano E che le renderà eternamente beati Sentimenti e preghiere Caro mio Redentore Vi ringrazio che mi avete aspettato Chi sarebbe di me Se mi aveste fatto morire Quando mi trovavo lontano da voi Siano sempre benedette la vostra misericordia E la pazienza Che per tanti anni avete avuta con me Vi ringrazio della luce E della grazia con cui ora mi assistete Allora io non vi amavo E mi importava poco di essere amato da voi Ora vi amo con tutto il cuore E non provo pena maggiore Che quella di aver amareggiato A tale punto Un Dio così buono Mi tormenta questo dolore Ma dolce il tormento Mentre questo stesso dolore Mi ispira la fiducia che voi Mi abbiate già perdonato Dolce mio Salvatore O fossi morto mille volte prima E non vi avessi mai offeso Temo per il futuro Di poter tornare ad offendervi De Fatemi morire con la morte più atroce Piuttosto che io debba di nuovo Perdere la vostra grazia Sono stato un tempo schiavo dell'inferno Ma ora sono servo vostro O Dio dell'anima mia Voi avete detto che amate chi vi ama Io amo coloro che mi amano Proverbi 8, 17 Io vi amo Dunque sono vostro E voi siete mio Vi posso perdere nel futuro Ma questa è la grazia che vorrei ottenere Fatemi morire piuttosto Di dovervi perdere di nuovo Voi mi avete concesso numerose grazie Pure da meno richieste Non posso temere Che non vogliate esaudirmi in questa grazia Che ora vi domando Non permettete Che io vi perda mai più Datemi il vostro amore E non desidero più niente Maria Speranza mia Intercedete per me Pagina 41 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti